In quest'ultimo capitolo vedremo la situazione politica dell'Italia dopo l'unità e i primi anni di regno e oltre al completamento dell'unità territoriale con l'acquisizione del Veneto e dello Stato della Chiesa. Dopo l'unificazione del Regno d'Italia i problemi che si presentavano erano relativi alla riorganizzazione amministrativa perché l'Italia precedentemente era formata da diversi regni con diversi sovrani e diverse impostazioni amministrative, la retratezza economica particolarmente di alcune regioni d'Italia, quelle del Meridione, l'elevato debito pubblico dovuto all'acquisizione di regni più retrati ma anche alle spese di guerra sostenute per arrivare all'unità e il diffuso analfabetismo particolarmente in alcune regioni d'Italia. Nel 1861 si ritengono le prime elezioni del Regno d'Italia a cui partecipa solo il 7% della popolazione, 400.000 persone su 22 milioni di abitanti. I cittadini che potevano votare erano i cittadini maschi che sapevano leggere e scrivere e che pagavano 40 lire di tasse l'anno. Il primo schieramento a governare fu la destra storica, non dobbiamo intendere destra con le categorie politiche attuali, ma destra solo rispetto alla collocazione in Parlamento e a questo schieramento appartenevano le forze conservatrici e nobiliari del vecchio regno di Sardegna. La destra storica ottenne l'80% dei voti e governò ininterrottamente dal 1861 al 1876, seguendo la politica di Cavour, una politica antidemocratica, monarchica e centralistica, con tutto il potere accentrato nelle mani del re. L'Italia fu divisa in province governate da prefetti, nominati direttamente dal governo, anche sindaci e consiglieri comunali erano nominati direttamente dal governo, questo fa parte della politica accentratrice, viene introdotta la moneta unica, la lira, viene introdotta il sistema metrico decimale in tutti i territori d'Italia, viene introdotta la leva obbligatoria per tutti i cittadini maschi per una durata di sei anni. Questa è la cartina delle prefetture italiane definita dopo l'unità d'Italia. Il pareggio del debito pubblico fu ottenuto attraverso molti sacrifici, il ministro delle finanze Quintino Tansella decise una politica di sacrifici per raggiungere questo pareggio del bilancio. Vende molte terre del demanio, cioè di proprietà dello Stato, che vengono acquisite dai grandi, dai nobili e dai ricchi borghesi, quindi vengono concentrate nelle mani di pochi. Vengono imposte nuove tasse e aumentate quelle già esistenti. Viene introdotta l'odiosissima tassa sul macinato che colpiva soprattutto i ceti più poveri che si nutrivano di polenta e di pane. Questa è una foto del documento che attesta la tassa sul pane o tassa sul macinato e nonostante i violenti scontri seguiti alla imposizione di queste nuove tasse, il pareggio di bilancio fu raggiunto nel 1876, fu un grande successo per la destra storica e attirò investimenti esteri in Italia, che era diventato ormai un regno più credibile. Abbiamo detto che i territori italiani erano disegualmente sviluppati. L'Italia del Sud era un territorio meno fertile della Piemura Padana perché molti terreni dell'Italia del Sud erano lasciati al latifondo o avevano una situazione paludosa o boschiva. Non esisteva una borghesia nel Sud Italia capace di sviluppare industria e commercio. I contadini nel Sud Italia erano semplici braccianti mentre la terra apparteneva ai grandi proprietari. La politica economica della destra storica favorisce sostanzialmente le regioni del nord più industrializzate. Penalizza quelle meridionali dove l'aumento delle tasse e la mancata redistribuzione delle terre aveva provocato il malcontento nelle famiglie meridionali e aveva dato origine al fenomeno del brigantaggio, anche per sfuggire all'odiosissima leva militare obbligatoria. La risposta del governo contro il brigantaggio fu immediata e molto violenta. Il brigantaggio venne stroncato con le armi, vengono mandati interi reparti dell'esercito al Sud per stanare i briganti e ucciderli. Il compimento dell'unità d'Italia arrivò con altre due tappe. Nel 1866 con la terza guerra di indipendenza partecipando alla guerra al fianco della Prussia nella guerra contro l'Ausia l'Italia ottenne il Veneto. Nel 1870 viene occupata dai bersaglieri la città di Roma che diventa capitale d'Italia. Quindi al completamento della unità territoriale per arrivare al confine naturale delle Alpi mancavano il Trentino e il Friuli Venezia Giulia. Nel 1870 essendo stato sconfitto Napoleone III a Sedan dai prussiani e quindi non potendo più difendere lo stato della chiesa avvenne la presa di Roma che venne proclamata capitale del regno. Infatti il 20 settembre 1870 i bersaglieri entrarono a Roma dalla breccia di Portapia e proclamarono Roma capitale d'Italia. Nel 1871 vennero emanati le leggi delle guarentige o garanzie che riconoscevano al pontefice il possedimento sui territori del Vaticano, dell'Aterano e di Castel Gandolfo, gli attuali confini dello Stato Vaticano, ma il Papa Pio IX si rifiuta di riconoscere la verità di questa legge e impone ai cattolici di non partecipare alla vita politica del nuovo regno d'Italia. Nelle elezioni del 1876 la destra storica perde la maggioranza a favore di quella che viene definita sinistra storica. Alla sinistra storica appartenevano politici liberali aperte ad idee monarchiche, favorevole all'allargamento del diritto di voto, eredi del pensiero di Mazzini e di Garibaldi. Gli esponenti più importanti furono i due presidenti del Consiglio, ossia Agostino de Pretis dal 1876 al 1887 e Francesco Crispi dal 1887 al 1896. Quali erano i programmi della sinistra storica? Allargare il soffraggio universale con la riforma del 1882 potevano votare i maschi maggiorenni, si era maggiorenni a 21 anni di età, che pagavano 20 lire di tasse annue, per cui i votanti passarono dai 400.000 iniziali ai 600.000 fino ad arrivare ai 2 milioni di votanti. Per eliminare l'analfabetismo fu emanata la legge Coppino, la prima legge che regolamentava la pubblica istruzione nel Regno d'Italia, del 1877. Si organizzarono le scuole elementari e furono aperte numerose scuole serali per adulti per poter far raggiungere un titolo di studio agli adulti. Furono diminute le tasse, la tassa sul macinato fu prima ridotta e poi abolita nel 1884 e fu introdotto il protezionismo in economia, aumentando le tasse edoganali rispetto alle merci in entrata dall'estero e favorendo così lo sviluppo del mercato interno e delle aziende nazionali. In questo periodo venne intrapresa una politica colonialista. Per donare prestigio al nuovo Regno d'Italia c'era bisogno di un impero coloniale, così come ce l'avevano l'Austria, la Germania, la Francia e l'Inghilterra. La politica sottoscrisse un'alleanza con Austria e Germania, la triplice alleanza nel 1882, in chiave antifrancese che stava estendendo nel frattempo i suoi domini territoriali. Infatti l'Italia puntava all'Algeria, alla Tunisia che nel frattempo era stata conquistata dalla Francia nel 1881, quindi decide di attaccare all'Eritrea un piccolo territorio confinante con l'impero di Etiopia per poter estendersi dal punto di vista coloniale. Questo territorio faceva parte dell'impero abissino. Nella battaglia di Dogali del 1887 l'Italia subisce un'umiliante sconfitta. La prima volta che l'esercito italiano intraprende un'operazione bellica e nonostante l'inferiorità degli armamenti degli abissini subisce una umiliante sconfitta. Nel 1887 De Pretis muore e lo sostituisce Francesco Crispi che è il primo politico meridionale a guidare il governo italiano. Democratico e repubblicano di origini, il suo pensiero era di origine democratica e repubblicana in gioventù, si convertì poi a una politica monarchica in età matura. Voleva fare dell'Italia uno stato forte, capace di intervenire anche in questioni estere. Nel 1889 introdusse la riforma del codice penale, il cosiddetto codice Zanardelli, con cui aboliva la pena di morte definitivamente e concedeva la libertà di sciopero ai lavoratori. Nel marzo del 1896 prova di nuovo a conquistare l'Elitrea, ma anche qui l'Italia va incontro a una disastrosa sconfitta, la sconfitta di Adua, che costringe Crispi alle definitive dimissioni. Questa è una panoramica sui primi anni del Regno d'Italia con cui si conclude il nostro programma di storia. Questo capitolo lo riprenderemo l'anno scorso per poi affrontare il nuovo secolo e vedere gli sviluppi del nostro paese in riferimento alla politica internazionale anche degli altri paesi, per poi affrontare quindi due conflitti mondiali e arrivare alla situazione attuale, politica, sociopolitica economica attuale. Arrivederci.